Musica Incidente stradale tra una moto e un'auto ferito un centauro di 26 anni 26 anni l'arrestato dai carabinieri aveva oltre un chilo di cocaina Trattore prende fuoco, paura per un agricoltore che però è riuscito a dare l'allarme I bagneri fanesi dicono sì alle compagnie di giovani sotto l'ombrellone Valle Foglia e Monte Labate da domani tornano in zona gialla In calo i decessi ma aumentano i contagi Navigazione Montanari finanziata per 35 milioni da Illimiti Bank per il rinnovo della flotta Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 Apriamo questa edizione con la cronaca Andiamo subito ad Urbino dove i carabinieri hanno arrestato un 26enne che trasportava sul suo camioncino più di un chilo di cocaina Letizia Marchionni Trasportava cocaina a bordo di un camioncino il 22enne di nazionalità macedone Tratto in arresto lo scorso 30 aprile dai carabinieri della compagna di Urbino Il giovane era stato fermato dai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagna di Urbino Affiancati dal personale delle stazioni di Urbania e Colli al Metauro Poiché viaggiava a bordo del camioncino intorno alle 12 Orario ritenuto non consono alle attività legate all'edilizia Durante il controllo il 22enne si era mostrato particolarmente nervoso Ed inoltre il suo abbigliamento non era riconducibile all'attività lavorativa relativa al mezzo condotto e dalle attrezzature trasportate Tutti questi elementi hanno quindi portato i militari ad approfondire il controllo Durante l'ispezione del veicolo in una borsa a tracolla situata dietro al sedile dell'autista Sono stati rinvenuti e sequestrati dai carabinieri diversi involucri sotto vuoto Contenenti oltre 1,3 kg di cocaina Che sul mercato avrebbero fruttato al giovane la somma di circa 100.000 euro Molto probabilmente lo stupefacente era destinato alla riviera romagnola e marchigiana Vista la direzione di marcia del camioncino che viaggiava sulla SS 73 Bis In direzione Fano all'altezza di Sant'Ippolito La perquisizione presso l'abitazione del giovane poi ha portato al rinvenimento e dal sequestro di un'arma bianca Ovvero una katana, detenuta irregolarmente perché mai denunciata all'autorità competente Inoltre è stata sequestrata anche una ingente somma di denaro contante, verosimilmente provente o dispaccio Il giovane è stato tratto in arresto per la detenzione ed il trasporto della sostanza supefacente E segnalato per la detenzione illegale dell'arma È inoltre stato associato alla casa circondariale di Pesaro e ieri il GIP del Tribunale di Urbino Ha convalidato l'operato dei carabinieri disponendo nella custodia cautelare in carcere L'operazione portata a termine dai militari è sicuramente il sequestro di cocaina più rilevante per quantità e qualità Eseguito nell'ambito del circondario di Urbino Uno scontro tra un'auto e una moto è avvenuto questa mattina intorno alle 6.50 sulla Monte Labattese all'altezza del distributore di metano Per causa ancora in fase di accertamento la moto che viaggiava in direzione Urbino Si è scontrata contro un'auto, una Opel Astra guidata da un 43enne di Vallefoglia Proveniente dalla direzione opposta ad avere la peggio è stato il Centauron 26enne pesarese Caduto violentamente a terra Il giovane è stato soccorso dei sanitari del 118 che hanno poi chiamato l'eliambulanza Per trasferire il ferito al Torrette di Ancona Ora ricoverato in rianimazione con prognosi riservata È stato trasportato al pronto soccorso anche il 43enne a bordo della vettura per accertamenti Un trattore agricolo a fuoco questa mattina intorno alle 11.30 a San Giorgio di Pesaro In strada Borgoduca a dare l'allarme lo stesso conducente del mezzo Che è anche il proprietario del terreno su cui stava lavorando e che fortunatamente non è rimasto ferito L'incendio si è verificato a causa del surriscaldamento del motore Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco di Fano I carabinieri di terre roveresche e la polizia municipale Cambiamo pagina, adesso parliamo di spiagge di estate Perché? Perché a differenza di quanto è accaduto nel pesarese I bagnini di Fano hanno potuto affittare gli ombrelloni stagionali anche alle numerose comitive di giovani In molti stabilimenti diversi sono andati già tutto esaurito I dettagli nel servizio di Angelica Panzieri La stagione estiva è alle porte Negli stabilimenti balneari di Fano proseguono i lavori per l'allestimento delle spiagge Qui rispetto a quanto è accaduto a Pesaro i titolari degli stabilimenti non hanno dovuto rinunciare Ad affittare gli ombrelloni alle comitive dei più giovani Anche quest'anno ce ne saranno per tutti, compresi i turisti A dichiararlo sono gli stessi bagnini di Fano Che pur dovendo rispettare i protocolli sanitari per le regole anti-Covid Sono riusciti a soddisfare tutte le richieste Molti stabilimenti infatti a livello di prenotazioni sono già andati sold out anche per questa stagione La pandemia ha comunque dato una restrizione per le norme a tutti i bagnini Non solo a noi, per cui sicuramente già d'anno scorso abbiamo dovuto eliminare un po' di ombrelloni Però non per questo non è che non hanno prenotato le comitive Soprattutto perché il nostro è comunque un territorio dove c'è un turismo piuttosto locale E quindi le compagnie assolutamente si sono organizzate per riprendere l'ombrellone È ovvio che proprio le direttive, le linee guida dicono che nei 10 metri 50 per ombrellone quadrati Non ci possono stare più di 4 persone Per cui poi le comitive sono organizzate che erano in 8 e in 10 hanno preso due ombrelloni Che erano in 6 e 7 si tornano all'ombrellone Avranno sicuramente delle convenzioni con le spiagge e con gli alberghi Per cui è logico che l'albergo che ha una convenzione avrà una prelazione per il proprio cliente È ovvio che non si può arrivare alla fine di luglio, ai primi di agosto Pensando che le spiagge ci siano gli ombrelloni completamente libri eccetera Ma questo non è causa pandemia, era così anche prima Teniamo tutti i vecchi clienti, dovremmo aggiungere anche degli ombrelloni Quest'anno abbiamo la fortuna che la spiaggia ci sia allungata grazie alla nuova scogliera Abbiamo poste sia per i giovani che per i turisti Sotto l'ombrellone si può stare al massimo in 4, sono i 10 metri quadrati Ci deve essere un metro tra lettino e lettino Queste sono le ultime direttive che ci sono arrivate qualche giorno fa Quanti ombrelloni in più avete dovuto mettere quest'anno? Ancora la contezza esatta non l'abbiamo Però ne metteremo rispetto all'anno scorso 30-40 ombrelloni in più Quanto ci riguarda i bagni Cafferzilla la situazione è molto positiva Tutte le compagnie dell'anno scorso hanno comunque riconfermato per quest'anno Avete dovuto riservare degli ombrelloni turisti? Ma no, più che altro noi viviamo molto con lo stagionale Quindi la nostra spiaggia è praticamente quasi tutta al completo Anche prima dell'inizio della stagione Quindi ci siamo molto soddisfatti Ma soprattutto anche per il lavoro che abbiamo fatto nel corso degli anni Quindi sembra che alla gente piaccia quello che stiamo facendo Quindi continuiamo così dai Gli ombrelloni quindi ci sono? Quanti ne avete dovuti togliere in totale? Ma rispetto agli altri anni precedenti al Covid Più o meno una trentina Su un ammontare più o meno sui 500 Quindi dai poca roba Perché noi comunque avevamo già delle ombrelloni abbastanza distanziate Rispetto alle altre spiagge Quindi ne abbiamo persi relativamente pochi insomma La pagina della pandemia adesso Sono due decessi legati al Covid Che si sono verificati nelle Marche In queste ultime 24 ore Nessuna delle vittime era residente nella provincia pesarese La quale però rimane in testa per il numero dei positivi Come vedete da questo cartello Ben 56 nella provincia di Pesaro e Urbino Seguita da quella di Ascoli Piceno con 46 casi E negli ospedali della regione ci sono 7 ricoveri in meno Per un totale di 475 In terapia intensiva invece i pazienti sono 69 Mentre in semi-intensiva sono 123 E da domani, mercoledì 5 maggio I comuni di Vallefoglia e Monte Labate Tornano in zona gialla Lo comunicano i sindaci Palmiro Ucchielli e Cinziaferri Sulla base dei dati inerenti Contagi trasmessi oggi dalla regione Marche E relativi alla settimana che va dal 26 aprile al 2 maggio Scrive Ucchielli vi annuncio che il comune di Vallefoglia Dalla mezzanotte di mercoledì 5 maggio Torna ad essere in zona gialla Sono lieto di poter dare questa notizia ai cittadini Tanto attesa dopo giorni di restrizioni Che ci hanno costretto anche durante il primo maggio Ad osservare rigidi comportamenti Ricordiamo però di mantenere sempre alta l'attenzione E così anche Cinziaferri Sindaco di Monte Labate Che ha scritto Auguro un buon lavoro a tutte le attività Che riprendono a lavorare Ma raccomando di non abbassare la guardia Il virus è ancora tra noi Il maltempo non ha aiutato La ripartenza dei ristoratori Che il 26 aprile scorso Hanno potuto riaprire battenti Un po' meglio nel fine settimana del 1 di maggio Dove tante persone hanno riempito i tavoli Delle attività Qualcuno temeva di rimanere con i tavoli vuoti Per via del maltempo Ma se la prima settimana di riaperture Non è andata benissimo nei primi giorni A causa della pioggia A Pesaro ristoratori e baristi Hanno potuto recuperare nel weekend del 1 maggio Tanta la voglia di tornare al ristorante Da parte dei clienti Che hanno preso letteralmente d'assalto I locali del lungomare Accontentandosi di mangiare all'aperto Questo del resto prevede il decreto Dal 1 giugno in zona gialla Si ripartirà anche con il servizio all'interno Dalle 5 alle 18 Ma per ora i ristoratori possono comunque Ritenersi soddisfatti Speriamo che il tempo un po' ci aiuti Perché se il tempo aiuta Noi siamo pronti e la gente esce Se invece c'è un po' di tempo incerto In cui sostanzialmente la gente non è sicura Per uscire la gente non esce Con il weekend del 1 maggio Diciamo comunque avete recuperato Complice anche il bel tempo di ieri Sai, allora Lì il tempo è andato bene Il 1 di maggio la sera non era buona Però a pranzo ha aiutato Fino alle 4.30 o alle 5 Così perché dopo ha piovuto Però diciamo sostanzialmente I posti che avevi Li avevi occupati Il weekend è andato molto bene La voglia se ne è tanta di uscire La riapertura è stata discreta Anche perché i primi 3.40 Non è più avuto Però tutto sommato è andato molto bene State lavorando bene Sia con il servizio del pranzo Che con quello della cena Le richieste ci sono? Le richieste ci sono Si lavora più a pranzo Che a cena naturalmente Perché la cena è ancora un po' freddo Però tutto sommato va abbastanza bene Avete già diversi tavoli prenotati Possiamo dire anche per la prossima settimana? Esattamente Soprattutto per il weekend La riapertura è andata bene Il 1 maggio A parte un po' di pioggia Comunque è andata bene Il pranzo La colazione del mattino Ha piovuto un po' nel pomeriggio Però meno male Ce la siamo cavata Anche perché Avendo un po' di coperto Con l'ombrellone Che riusciamo ad avere dei tavoli Dove la gente non si bagna La voglia di tornare insomma C'è E le regole vengono rispettate Sì Sì dai Adesso Riusciamo a A farle rispettare Anche perché teniamo le distanze Con i tavolini Il comune ci ha lasciato la possibilità Di Di spostarci un po' Sull'altro lato del locale Quindi Ci siamo riusciti a mantenere I nostri posti insomma Le regole restano sempre le stesse E pare che fino ad ora Siano state rispettate Scrupolosamente Anche dagli stessi commensali Si può stare seduti In massimo quattro persone per tavolo A meno che non si tratti Di conviventi E la distanza Tra un tavolo e l'altro È fissata ad un metro Pesaro piange la scomparsa Di Callisto Cerisoli Ex consigliere provinciale E comunale Una notizia che mi addolora Profondamente Il cordoglio del sindaco Matteo Ricci Assieme abbiamo condiviso L'impegno politico e istituzionale Nell'interesse della nostra gente Forte anche l'impegno Nell'associazionismo Che lo vide alla guida Dell'ambito territoriale Di caccia Pesaro 1 Tutto questo continuando A dirigere un'impresa Nel settore legno Con una forte propensione All'innovazione La certezza è che rimarrà Sempre nei nostri cuori Sono partiti Anche nelle parafarmacie Delle Marche I tamponi Rapidi antigenici E i test sierologici Grazie ad un accordo Con la Regione Marche Spiega la Presidente Daniela Clini Le nostre parafarmacie Sono le prime in Italia Ad eseguire questi test In tutta sicurezza Ed in orari prestabiliti Sarà necessaria la prenotazione Contattando direttamente I vari esercizi Il tampone Ha un costo di 18 euro Mentre il sierologico Di 19 La Regione è a lavoro Per realizzare il distretto Unico del biologico Ne abbiamo parlato Con il Vice Presidente Della Regione Marche Mirco Carloni Che annuncia Puntiamo a fare Delle Marche Il più grande distretto Bio d'Europa Simona Zunghetti Con la firma del patto Per il biologico Avvenuta tra il Vice Presidente E Assessore all'Agricoltura Mirco Carloni E i rappresentanti regionali Delle associazioni di categoria Si punta per la prima volta Alla realizzazione Di un distretto Biologico unico Delle Marche Un strumento chiave Per incentivare L'economia locale Un alleato essenziale Per l'equilibrio Del processo alimentare E di conseguenza Per la salute Le adesioni Sono state aperte E quindi gli operatori Del settore Possono manifestare Il proprio interesse A partecipare Attraverso la piattaforma Siar A disposizione Ci sono 100.000 euro Per la costituzione E l'avvio del distretto Poi bandi mirati Del programma Di sviluppo rurale Con 25 milioni di euro Per il 2021 Destinate alle aziende Che producono biologico Più altre 18 milioni Riservati alle filiere Di qualità E ai prodotti locali Le Marche Devono diventare Dal mio punto di vista Il distretto Del biologico Più grande d'Europa Questo perché Perché intanto Possiamo andare a vendere Non solo i nostri prodotti Con un brand Marchigiano Locale Che ci identifica Rispetto a tutto il biologico Che invece Come sapete Non può essere Distinto Dal punto di vista Di indicazione geografica Inoltre Ci permette di fare Delle campagne Di comunicazione All'esterno E anche a livello internazionale Sulla Nostra specificità Di una cultura A grande Compatibilità Con la salute Con la qualità A grande sostenibilità E a biodiversità Questo diventerà L'elemento di forza Con cui noi andremo A Dubai Nel 2022 A presentare Nella settimana Dell'agricoltura La nostra regione A raccontare Un territorio Dove si vive bene Dove c'è cultura Della qualità E dove c'è sostenibilità Ma questo significa Anche fare promozione Per una regione Che dal punto di vista Turistico Riesce ad attrarre Tutti coloro Che vogliono vivere Un'esperienza Di qualità Ma all'aperto Nelle aree verdi Nelle aree interne Nei nostri magnifici borghi Con una grande propensione Ad una enogastronomia Di qualità Le Marche infatti Sono una delle regioni Dell'Italia biologica Con oltre 4.000 operatori E circa 104.000 ettari bio Cioè il 22% Rispetto alla superficie Agricola utilizzata Al di sopra Della media italiana E di quella europea Il primo scopo È quello di Creare valore Ai nostri prodotti biologici E fare in modo Che chi fa cultura biologica E magari ha delle dispersioni Ha dei costi superiori Fa sicuramente Dei sacrifici ulteriori Possa trarne vantaggio Perché il prezzo vale di più La percezione di quel prodotto Deve essere più alta L'altro vantaggio È indiretto Perché comunicheremo Una regione La regione Marche Che è una regione sostenibile Dove si vive bene Dove si può venire A fare delle vacanze Di qualità All'aperto Finanziamento di circa 35 milioni di euro E erogato Da Illimiti Bank A favore di Euromont Shipping Società controllata Dal gruppo Navigazione Montanari Fondato nel 1889 Il gruppo Navigazione Montanari È attivo da oltre 120 anni Nel trasporto marittimo Per il settore Petrolifero E petrolchimico Annoverando tra i suoi clienti Operatori di primaria Importanza a livello Internazionale Nel 2020 Il gruppo A livello consolidato Ha raggiunto circa 128 milioni di euro Di ricavi Grazie al finanziamento Della durata di sei anni Navigazioni Montanari Ha concluso L'acquisto di due tankers Che sostituendo Alcune navi Con maggiore anzianità Dismesse nel corso Dell'anno precedente Permetteranno Alla società Di proseguire Il rinnovamento Della flotta Per offrire I propri clienti Sempre più elevati Standard di qualità Sicurezza E rispetto Per l'ambiente Le nuove navi Infatti sono dotate Di motori elettronici Che regolano La combustione In modo da minimizzare L'impatto ambientale Limitando Inquinamento atmosferico E consumi A breve affano Si potrà discutere La propria tesi Di laurea Nella residenza comunale Come proposto Dal consigliere Edoardo Carboni Lo conferma In una nota Il sindaco Seri Ci stiamo attivando Ha spiegato Il primo cittadino Affinché nel giro di breve Possiamo concedere Questa possibilità Ai nostri laureandi Il covid ha reso Obbligatorio Lo svolgimento Dell'atto conclusivo Del percorso universitario A distanza Pertanto Ha continuato Seri Vogliamo Rispetto di tutte Le normative sanitarie Spalancare le porte Della sala Della Concordia Il ciclista fanese Siamo allo sport Il ciclista fanese Giovanni Carboni È pronto a correre Per il Giro d'Italia 2021 Che prenderà il via Sabato 8 maggio E che attraverserà Anche le Marche Ad incontrarlo Questa mattina L'assessore regionale Francesco Baldelli Sarà l'unico ciclista Marchigiano A partecipare Al Giro d'Italia 2021 Non nasconde La sua grande emozione Il fanese Giovanni Carboni 26 anni Pronto a cimentarsi Nella 104esima edizione Della Corsa Rosa Che partirà Sabato 8 maggio Da Torino Il Giro si svolgerà In 21 tappe Dall'8 al 30 maggio Con arrivo previsto A Milano Il percorso passerà Anche all'interno Della regione Marche Giovedì 13 maggio Giorno in cui Si svolgerà La sesta tappa Del Giro Appunto Tutta Marchigiana E che taglierà Da nord a sud L'entroterra Della regione Dalle grotte Di Frassassi Ad Ascoli Piceno Applauso al giovane ciclista Anche da parte Dell'assessore regionale Francesco Baldelli Che oggi Lo ha incontrato Sotto l'arco d'Augusto Ho sentito Non solo Come un dovere Ma come una necessità Quello di venire Ad incontrare Questo giovane Atleta marchigiano Che ricordiamo Sarà l'unico Atleta marchigiano A rappresentare La nostra regione Nel Giro d'Italia In questa giornata In cui lui termina I suoi allenamenti Nelle Marche Per partire Per il Giro d'Italia E allora diciamo Che al Giro d'Italia Le Marche tifano E tiferanno Giovanni Carboni Un marchigiano In grado di competere Con i big Delle due ruote Al E-Giro E che ha già dimostrato Il suo talento Indossando per ben Quattro giornate La maglia bianca Di miglior giovane ciclista Nel 2019 E allora Giovanni Ci aiuterà A narrare Questa nostra necessità Di rinnovare La regione Anche da un punto di vista Di mobilità E mobilità sostenibile Ad esempio Con il tandem Bicicletta Ferrovia Un'emozione Sono al mio terzo Giro E devo dire Che quest'anno Sarà un anno Importante Per me Vorrei Voglio E mi sono preparato Per dimostrare E raggiungere Certi traguardi La tappa La tappa Qua nelle Marche Unisce Veramente I territori Dell'interno Ed è una tappa Impegnativa Per le mie caratteristiche Sicuramente Proverò A mettermi in mostra Allora Subito dopo di noi Le previsioni del tempo Poi una nuova puntata Di Guarda chi c'è Dedicata alla pandemia E al disagio psicologico L'ospite di Paolo Notari E la psicoterapeuta Elisabetta Petrelli Per le vostre segnalazioni Vi ricordo Il nostro numero di telefono 338 49 68 250 Questa edizione del telegiornale È stata curata Da Angelica Panzieri Grazie per averci seguito L'appuntamento con l'informazione Sul canale 17 di Fano TV E per domani mattina Alle 7 Con la rassegna stampa Arrivederci